Buongiorno a tutti, oggi io e le mie colleghe siamo qui a parlarvi di un'evoluzione della cardiologia interventistica che si occupa dell'impianto di sostituzione di valvola aortica per via percutanea, chiamata TAVI, ovvero Transcatheter Aortic Valve Implantation. Questo argomento ci ha coinvolte per il suo spirito innovativo e la sua lungimiranza. Con la TAVI viene trattata la stenosi aortica severa, una patologia che si stima affliggere circa l'8% della popolazione over 80. Infatti uno dei punti di forza della TAVI è proprio il suo target, cioè una popolazione anziana con comorbidità importanti e che risulta in continuo aumento, dato che, come sappiamo, la durata media della vita è in continua crescita. Il pioniere di questo intervento è stato Alain Cribie, un cardiologo francese che il 16 aprile del 2002 impiantò la prima valvola aortica per via percutanea, nonostante lo scetticismo dei colleghi. In questi 15 anni si sono susseguiti numerosi trials scientifici che hanno dimostrato l'efficacia e la sicurezza della TAVI e di cui oggi vi mostreremo i principali risultati. Inquadriamo meglio la patologia. Per stenosi aortica si intende il restringimento del lume della valvola aortica. Questa patologia presenta diverse ziologie, può essere congenita, reumatica, ma la principale e quella in cui la TAVI trova maggiore applicazione è la degenerativa calcifica. L'importanza del trattamento nasce dalla storia naturale della patologia. Infatti a due anni il 50% dei pazienti non trattati va in contramorte. Come possiamo vedere dal grafico, dall'insorgenza dei sintomi, la percentuale di sopravvivenza cala drammaticamente. La stenosi aortica calcifica è una patologia cronica e progressiva. Di solito la diagnosi è casuale, infatti il paziente decorre asintomatico per un lungo periodo di tempo. Con il progressivo restringimento della valvola aortica insorgono i sintomi, i cui principali sono angina, sincope e dispnea. L'ecocardio rappresenta il gold standard per la diagnosi e la stadiazione. L'unica con indicazione al trattamento è la stenosi aortica severa, che viene definita secondo un'area valvolare inferiore a un centimetro quadrato, un gradiente transvalvolare superiore ai 40 mm di mercurio e una velocità attraverso la valvola superiore ai 4 metri al secondo. Qui sono presenti due ecocardiografie di una paziente che è stata trattata dal team di Modena e possiamo vedere che prima dell'intervento di TAVI il gradiente transvalvolare medio di questa paziente era di 60 mm di mercurio, mentre dopo un follow-up di 3 mesi questo gradiente è rientrato nella norma ed è solo di 12 mm di mercurio. Dopo diagnosi di stenosi aortica severa le possibilità di trattamento sono limitate. Una prima possibilità è rappresentata dalla terapia medica tramite acini vitori e diuretici, i quali tuttavia non portano nessun beneficio. L'intervento cardiochirurgico di sostituzione tramite protesi meccanica o biologica è attualmente la terapia di scelta per la stenosi aortica severa. Infatti sappiamo che la cardiochirurgia permette un netto miglioramento della sintomatologia clinica e anche della sopravvivenza a lungo termine. Tuttavia, nonostante gli innumeribili progressi ottenuti dalla cardiochirurgia, esistono delle condizioni come per esempio la presenza di comorbidità o l'età avanzata che incrementano esponenzialmente il rischio operatorio e rendono l'intervento cardiochirurgico quasi proibitivo. Infatti si parla addirittura di un 30-35% dei pazienti che avrebbe indicazione al trattamento ma che non può essere sottoposta a cardiochirurgia. Ne deriva che paradossalmente nella popolazione in cui vi è la maggiore prevalenza di questa patologia valvolare aortica, l'intervento convenzionale non possa essere eseguito. Da ciò nasce la necessità di un intervento meno invasivo che possa includere anche questa fascia di pazienti e per questo entra in gioco la TAVI. Per selezionare quindi a questo punto e discriminare tra intervento cardiochirurgico e TAVI c'è bisogno di una fase di accurato studio dei singoli casi clinici e per questo è presente il cosiddetto hard team che è composto da cardiologo interventista, cardiologo clinico, ecocardiografista, cardiochirurgo, anestesista, geriatra ed ecocardiografista. Quest'equipe riunita si occupa di valutare quelle che sono le principali caratteristiche del paziente che possiamo riassumere in tre punti cioè clinical, disease e anatomical assessment. Viene posta molta importanza agli score chirurgici come STS e Euroscore che si occupano di stratificare i pazienti in pazienti a rischio elevato o in pazienti a rischio intermedio oltre che alla fraialty e futilità del paziente, alle sue comorbidità e all'aspettativa di vita. Come abbiamo già detto l'eco è fondamentale per la diagnosi, la stadiazione e le rivoluzioni della patologia mentre la TAC è molto importante perché si occupa di raccogliere quelle che sono le caratteristiche anatomiche necessarie al trattamento. Entriamo ora nel dettaglio e vediamo in cosa consiste concretamente la TAVI. Si tratta di un intervento mini-invasivo attraverso il quale andiamo a sostituire la valvola ortica degenerata attraverso un accesso percutaneo. L'intervento si esegue esclusivamente in sala operatoria ibrida sotto costante monitoraggio radiologico ed ecocardiografico. L'accesso percutaneo di cui parlavamo avviene nell'80% dei casi attraverso l'arteria femorale. In caso di sua inaccessibilità si valutano altre arterie come la orta o la succlavia o infine un altro tipo di accesso che è il transapicale che viene effettuato in mini-toracotomia sinistra. A seconda del tipo di accesso utilizzato cambia anche il tipo di anestesia, locale nel primo caso mentre sarà totale con intubazione del paziente nell'accesso transapicale in quanto è un vero e proprio intervento chirurgico a cuore battente. Vi è anche un altro accesso a livello della vena giugulare per l'inserimento di un pacemaker temporaneo in ventricolo destro. Questo permette una volta attivato di aumentare la frequenza cardiaca e diminuire così la pressione arteriosa per fare in modo che la valvola nativa rimanga aperta nel momento dell'impianto. Vi mostriamo ora questo video in cui è presente una ricostruzione semplificata dell'intervento TAVI. Come dicevamo vediamo che dall'arteria femorale viene inserita per prima la guida. Questa andrà a risalire lungo tutto il decorso della orta fino ad attraversare l'anulus e portarsi in ventricolo sinistro. Questa guida serve come da binario per il catetere vero e proprio onde evitare che questo vada a lacerare le pareti vascolari. Ora vediamo che viene effettuata la valvolo plastica, procedura che consiste nel gonfiare questo palloncino e allargare così i lembi nativi. Questa procedura può essere fatta o meno come bridge tra l'inizio del trattamento e l'intervento vero e proprio. Vediamo ora entrare in gioco l'introduttore che porta sull'estremità la valvola ancora chiusa che deve essere impiantata. Anch'essa andrà a ripercorrere tutto il decorso della orta fino a posizionarsi all'altezza più adeguata studiata precedentemente mediante tacche e a livello dell'anulus. Una volta che si trova in posizione la valvola è pronta per essere rilasciata e in questo momento vediamo attivarsi quel pacemaker temporaneo di cui dicevamo prima. Una volta rilasciata la valvola rimarrà in loco senza necessità di punti di sutura o meccanismi di ancoraggio. Viene ritirato prima il catetere e poi la guida e il flusso sanguigno è così ripristinato. Diversi sono i dispositivi che sono stati progettati per la TAVI. Questi che vi esponiamo oggi sono i principali più studiati ed utilizzati in tutto il mondo. Per ognuna di queste valvole l'efficacia è stata convalidata mediante specifici trials clinici randomizzati di cui abbiamo analizzato e oggi vi andiamo ad esporre i principali risultati. La valvola più studiata ed impiantata è sicuramente l'Isward Sapien, un modello balloon expandable in pericardio bovino. La sua efficacia è stata assicurata dagli studi partner 1 e 2 pubblicati sul New England tra il 2010 e il 2016. Il primo, il partner 1, ha assicurato la superiorità di TAVI rispetto alla standard therapy nei pazienti ad alto rischio chirurgico. Come vediamo dai grafici relativi allo studio, infatti la TAVI in rosso risulta sempre migliore rispetto alla standard therapy per i principali endpoint primari che sono la mortalità per ogni causa e il rischio di stroke. Nel partner 2 successivamente invece è stata assicurata la non inferiorità di TAVI e in 2032 pazienti a rischio intermedio rispetto alla sostituzione chirurgica della valvola. Gli endpoint primari considerati rimangono gli stessi, questa volta vediamo la TAVI in blu rispetto alla sostituzione chirurgica della valvola. Considerando invece in quest'altra tabella i principali endpoint secondari sempre dello stesso studio vediamo che, sottolineati in blu, eventi di sanguinamento che mettono in pericolo la vita, danno renali acuto e insufficienza renale acuta e sono migliori per la TAVI. Nonostante ciò invece vediamo che, sottolineato in rosso, le complicanze vascolari maggiori risultano comunque sempre preponderanti nell'intervento di sostituzione percutanea. Altra valvola che andiamo ad analizzare è la core valve prodotta da Medtronic in tessuto porcino, modello balloon self-expandable che sfrutta la proprietà del nitinol di dilatarsi al cambiamento di temperatura. Un studio molto importante condotto utilizzando la core valve è il SUR TAVI, di cui ultimo aggiornamento del 17 marzo 2017. Questo studio è stato condotto su 1746 pazienti da 86 centri diversi per valutare la possibile estensione appunto anche a pazienti a rischio intermedio cosa che è risultato effettivamente fatta grazie a questi grafici in cui vediamo una sovrapposizione della TAVI rispetto alla sostituzione chirurgica. Ultima valvola che andiamo a vedere è la LOTUS prodotta da Boston Scientific, la cui caratteristica principale è il rilascio meccanico controllato progettato per ridurre al minimo il rigurgito paravalvolare aortico che è una delle principali complicanze della TAVI che dopo vedremo. Lo studio Reprise 2 ha convalidato l'efficacia e la sicurezza della valvola LOTUS a un anno considerando 250 pazienti ad alto o estremamente alto rischio e suddivisi tra Europa e Australia. Gli end point considerati sono sempre i principali, sono sempre mortalità per ogni causa e rischio di stroke. E vediamo che nonostante in questo studio non ci sia un confronto con la sostituzione chirurgica della valvola i dati sono comunque in linea con gli altri risultati che abbiamo analizzato. Quindi possiamo dire che anche per questa valvola è stato raggiunto l'end point primario di efficacia. Ma a questo punto quindi come scegliere il giusto device? Fondamentale risulta l'utilizzo della TAC ad alta risoluzione che ci permette di effettuare il sizing. Questa TAC va eseguita in fase sistolica e si deve concentrare su una valutazione dell'anatomia cardiaca e in seguito dell'adeguatezza delle arterie a livello periferico per decidere quale sia il punto migliore per inserire il device. Quindi vediamo come a livello cardiaco la prima misurazione da fare a livello della valvola ortica stessa in queste due sezioni trasversale e sagittale in cui si misurano i diametri e l'area della valvola. In secondo luogo va misurato il VOT, ovvero il Left Ventricular Outflow Tract che si trova a 4 mm al di sotto del piano valvolare. E inoltre è importantissimo andare a esaminare la distanza tra il piano valvolare e gli osti coronarici in modo tale che a seguito dell'impianto questi non vengano struiti. A livello periferico invece è possibile ricostruire tutto il decorso della orta come possiamo vedere in questa ricostruzione tridimensionale per poi andare nel dettaglio della orta stessa così come delle iliache comuni e infine delle femorali, sia destra che sinistra. Di queste, oltre che misurare i diametri ovviamente, va valutata l'eventuale presenza di calcificazioni che sono queste lesioni iperdense intacca sulla parete delle arterie. Inoltre è anche la presenza di tortuosità che potrebbero complicare, addirittura impedire, il passaggio dei cateteri. Nonostante la TAVI sia un intervento mini-invasivo, esistono comunque alcune complicanze. La principale, quella più frequentemente associata all'intervento è quella del rigurgito residuo paravalvolare aortico, anche chiamato paralic. È una condizione tutto sommato ben tollerata emodinamicamente dal paziente e quindi di entità lieve, ma si tende a escluderla subito a seguito dell'intervento tramite l'utilizzo di ecocardio, come possiamo vedere, o dell'angiografia che ci promette quindi di escluderla. Altre complicanze possono essere invece di tipo elettrico, quindi ad esempio blocchi della conduzione, atrioventricolari a cui sarà necessario in seguito l'impianto di un pacemaker permanente oppure complicanze vascolari di vario tipo per le quali però è sempre presente nella sala ibrida un chirurgo vascolare pronto ad intervenire. In questo schema invece abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione su altre questioni non trattate direttamente dagli studi ma che secondo noi potevano più concretamente dare un'idea delle potenzialità di TAVI rispetto alla cardiochirurgia. Innanzitutto possiamo dire che la durata dell'intervento in TAVI risulta minore in quanto sta intorno a un'ora o 45 minuti addirittura con i nuovi device. Così come l'adegenza in cui parliamo di circa qualche giorno per la TAVI contro ai 10-15 giorni per la cardiochirurgia in cui il paziente deve anche essere sottoposto ad una riabilitazione di tipo respiratorio a seguito dell'intubazione per non parlare di tutti i rischi infettivi adesso connessi. Anche l'invasività è ovviamente minore in TAVI che nasce proprio dalla necessità di operare anche gli inoperabili mentre le recidive rimangono per ora ancora maggiori nella TAVI ma ci si aspetta in futuro che sia con l'ottimizzazione dei device sia con il training specialistico sempre migliore anche queste potranno diminuire. Così come i costi che per ora rimangono quasi equivalenti tra le due procedure ma in futuro probabilmente con un'attiva competizione, concorrenza comunque tra le case produttrici e anche un aumento dell'attenzione da parte di altri centri specialistici anche questi potranno venire contenuti. Quindi nonostante oggi in Italia solo un quinto delle sostituzioni valvolari aortiche venga effettuato con TAVI il mondo scientifico è comunque positivo nell'aspettarsi un cambio di rotta e potremmo quasi parlare dello stesso cambio di rotta che già in passato avvenne dal bypass aortocoronarico all'angioplastica perché questo avvenga però sono necessari sempre più dati e nuovi trials da aggiungere a quelli di cui vi abbiamo parlato oggi per poter appunto ampliare questa tecnica e per questo motivo anche a Modena è oggi attivo uno studio multicentrico randomizzato e prospettico con la collaborazione anche di altre cardiologie della regione che ha come obiettivo primario quello di scegliere il device giusto per il paziente giusto e nel modo giusto il modo giusto è come abbiamo detto quello di affidarsi alla TAC e al sizing e al lavoro esperto dell'ART team che è cruciale nella selezione del paziente quindi possiamo dire che la TAVI ha le potenzialità di competere ad armi pari con la cardiochirurgia e questo è importantissimo considerando che la patologia contro cui combatte la stenosi ortica severa ha un importantissimo impatto epidemiologico in questa popolazione che sempre di più invecchia e che sempre di più si vede esclusa dalla possibilità di un trattamento invasivo quindi il messaggio che vi vogliamo lasciare va anche oltre a questo e per noi è stato chiaro fin da subito ovvero che la TAVI non sia solo una alternativa per il destino di questi pazienti che non possono sottoporsi alla chirurgia ma sia in realtà una speranza per il futuro della cardiologia e soprattutto una nuova opportunità anche per tutti gli altri tipi di pazienti a rischio basso intermedio affetti dalla stenosi aortica con questo messaggio quindi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'attenzione bravo ci sono domande qualcuna c'è è un falco la signorina io ciao io volevo domandarvi in quali pazienti se ci sono è controindicata questo tipo di procedura TAVI allora le possibilità in cui non possiamo effettuare TAVI possiamo dividerle nelle cause paziente dipendente possiamo dire così ovvero non so se un paziente ha un anulus che non è compatibile con una valvola già presente che non è ancora stata progettata oppure in presenza di comorbidità importanti come ad esempio può essere un infarto un ictus importante nei precedenti sei mesi o ancora un'aspettativa di vita inferiore all'anno altre cause possono essere quelle relative alle strutture perché ci possono essere strutture in cui la TAVI non si può fare ad esempio se manca l'air team o se manca la sala ibrida che sono condizioni essenziali per fare la TAVI grazie giusto ci sono altre domande? sì buongiorno volevo chiedervi visto che questo approccio è molto interessante soprattutto nel paziente un po' deteriorato che non regge la chirurgia se visto anche l'epidemiologia del prolasso della mitrale dell'insufficienza mitralica qua a Modena fanno qualcosa anche sull'insufficienza mitralica o se sapete di altri progetti a riguardo tipo il mitra clip queste cose qui allora grazie per la domanda allora questo aspetto è di sicuro molto interessante noi purtroppo non abbiamo potuto approfondirlo tanto per questioni di tempo avremmo avuto bisogno di altri 20 minuti per spiegarvi anche questa cosa per quel che sappiamo noi ci sono degli studi riguardo l'insufficienza mitralica per l'impianto di non proprio delle protesi più che altro per adesso vengono impiantate delle clip le mitral clip che presentano materiali anche simili rispetto a quelli che abbiamo presentato noi con le nostre valvole infatti sono in nitinol però presentano caratteristiche un po' diverse infatti la struttura è completamente diversa anche il metodo con cui vengono inserite le impiantate è diverso infatti si sale attraverso la vena cava inferiore per arrivare all'interno del atrio di destra si fa un passaggio attraverso l'ossetto e si arriva in questo modo nell'atrio di sinistra per agire poi sulla valvola mitralica in modo da diminuire il rigurgito della valvola però magari il prossimo anno vi porteremo questo progetto sperando che facciano altri studi ma di sicuro grazie io ho giusto una domanda velocissima certo qui la tecnologia ne fa da padrona bisogna essere super tecnologici per queste nuove metodiche soprattutto per utilizzare questi materiali così delicati mi chiedevo ho visto che voi fate usilio a tutto quello che è l'imaging perché logico questa è una metodica direi non mini invasiva non invasiva perché addirittura non si fa nessuna breccia in quello che è l'anatomia la costituzione del nostro organismo e quindi si va per via per cutanea un po' come facciamo come fanno i radiologi nella scleroembolizzazione tutte queste metodiche endocavitarie mi chiedevo appunto che sicuramente l'imaging fa la parte del leone noi qualche volta quando facciamo l'anatomia parziale ci avvaliamo di o anche nella biopsia stereotassica della prostata e cerchiamo di mettere molte volte con dei sistemi con dei programmi elaborati ovviamente al computer assieme le immagini che ne so nella stereotassica uniamo la risonanza magnetica all'ecografia cerchiamo di fondere per avere più informazioni io vedo che voi avete appunto questo sizing che sicuramente vi permette di vedere bene dove ci sono appunto lo sbocco delle coronarie e quindi impiantare la protesi in maniera più corretta possibile mi chiedevo l'utilizzo di questi programmi di realtà virtuale ecco li chiamerei perché fondamentalmente questo ti fanno vedere oltre quelle che sono le nostre capacità si potrebbero applicare a questa nuova tecnologia per migliorare ovviamente la sicurezza dell'impianto di queste protesi punto interrogativo ok certamente come ha già detto anche lei abbiamo illustrato che la tecnica utilizzata principalmente è la tacca ad alta risoluzione e tutte le ricostruzioni che da essa poi possono derivare certamente durante l'intervento vengono utilizzate sempre l'ecocardio in momenti esatti della procedura così come ovviamente la guida radiografica perché senza di essa non si riuscirebbe a vedere niente e certamente ci sono dei programmi già ora in atto che si chiamano Orus e Osiris direi, non vorrei sbagliare che sono in continua evoluzione grazie ai team specialistici dei tecnologi, non so di che cosa sia i radiologi perché qua è un lavoro di multi-equip diciamo un po' direi traslazionale ma non lo è però diciamo vengono impegnati più team noi per esempio quando facciamo la stereotassica siamo fianco a fianco con il radiologo infatti fa parte dell'art team proprio il radiologo radiologo normale radiologo anche interventista quindi questa collaborazione c'è già e quindi sicuramente darà dei frutti ulteriori grazie grazie